Da domani scattano nuove restrizioni alle sigarette. Il decreto legge sulla green economy prevede il difieto di fumare anche all'aperto se sia nei pressi di scuola ed ospedali oppure in automobile se c'è un minore a bordo. Multe salate anche per chi butta il mozzicone a terra, provvedimenti severi per chi vende sigaretti a minori. Le misure contenute nel decreto legge sono parecchie e tutte ancora poco conosciute tra i trevigiani che però sembrano approvare. Penso che un pochino più di rispetto nei confronti delle persone che non fuma non sia doveroso. Soprattutto è fastidioso vedere le sigarette per strada o chi ti svuota il posagenere sotto casa perché non ha rispetto di te. Penso sia giusto per gli altri, comunque per il rispetto di chi è intorno. Lei dà molto fastidio se qualcuno fume? No, non mi dà particolarmente. È tollerante. Sì, sì. Alcuni aspetti della legge generano comunque perplessità a partire da quello che vieta il fumo anche all'aperto nei pressi di scuole e ospedali. Io da fumatrice mi sembra un po' esagerato, cioè ormai il divieto c'è all'interno dei locali e trovo corretto, però che uno non si possa fumare una sigaretta in strada trovo esagerato. Non fumare neanche all'aperto vicino a determinati luoghi come le scuole e gli ospedali. Vabbè, voglio dire, se la scuola, se ci sono i bambini fuori mi sta bene, ma se passo davanti alla scuola con la sigaretta e mi fanno la multa mi arrabbio. Non si potrà neanche fumare in automobile per esempio se c'è un minore, questo è giusto secondo lei? È un po' relativo diciamo, è un po' particolare da decidere così su due piedi, però sì, potrebbe essere anche giusto dai per il minore ecco, giusto perché viene tutelato. Ho sentito che è per il discorso di buttare i mozziconi per terra, ecco questo è incivile assolutamente, ci sono un sacco di bidone dove potrei spegnere le sigarette. Consiglio a tutti di smettere di fumare, si sta molto meglio.